è un carotaggio è un po' differente perché sento carotaggi e me ne ha male perché c'è Marceo che ti dice a nomi non confini alle... ah tipo... se vieni in officina a me ti dici che ti vuoi una carota e ti dà la punta della carotatrice si, se vieni in officina a me ti dici che ti vuoi una carota e ti domando si racion non hanno tutti i torti eh, penso che andrà esattamente così 150erop ha un culo peoso da ora, non so che sia tanto... eh, tanto cose cazzo tuoi, letteralmente è un regalo di compleanno e ti arresta c'è una buza, un dolce, 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 un dolce... vieni io li vedo i prelievi Marco vuoi bestemmiare? allora, adesso verso farming e faccio la cenetta se tu uno che ha cominciato a fare qualcosa che non doveva fare, non più ho parlato uno pollo no, io sono mostrino, non mostrino eh, ancora meglio perché? non mi dai valori perché non c'è la stazione ma che cazzo dici mi danno i valori? quali degli altri mi hanno dato i valori? ma... è che mi hanno dato dentro analizzare 13 invece che 2 alla volta e mi ha scavato i soldi e ha fatto 1.300 euro però non mi ha dato i risultati ma cos'è che ti deve dare? vabbè, non ci interessa niente nessuno per il momento cioè io vedo tutto e alla fine 3, 2, 1 ti ingrumo su non so che cazzo ah eh guarda la cannesia da inclinare ai morti o? no, questo qua sono i morti da trasporto non sono i morti da... da te eh, salami anche io non sono arrivato adesso questi qua sono i morti da trasporto no da vedi che sono alti brutto salame questi vanno usati per trasportare la cannesia che non per raccogliere e chi sei che lo ha preso? pollo udo che si vedi che sei massa alto anche almeno ci sei dato prima guarda che merda le macchine che non vanno avanti in giro cazzo è salata la macchina è andata bene e tu hai le punte che sbattono ma se io la tirai su? eh cazzo non so io cazzo come non so con il 980 in America con i vari campi ma lui avanti non so cosa si ferma beh insomma con gli attrezzi loro però eh esatto ah eh eh anzi con le loro semigiatrici uh quella no puttana da Pippo Moro che non riesci a capire cosa che cos'è? puzzatini cazzo è cazzo è deficiente imbambito cazzo è cazzo parla italiano stai parlando in teronese si dice caione da me eh cazzo me ne frega ha messo il disetto tordo in semenio bauco incoglionio bauco cos'è da voi no? è uguale bauco parli italiano io ho mai sentito bauco in italiano eh ne hai cosiddetto quello che hai detto te prima quindi non sta a scassare le palle io non devo parlare italiano quando ti dici bauco dai tasi puli vapor vai Marco ma se ne fuori tutto mi fuori ha cipato in mezzo a cazzo del zucchero ma presto non per il giorno Marco ha fatto tutto rimorchio guarda che animale coglione lucato ci sta bene nego con una frase abbattando non devi fare gol guarda che cosa deve fare il drogato buonche cosa coglione se avesse preso il palo in faccia oh 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 cacchio dai l'ho girato si è girato di colo tu no no l'ho girato io con il mio trattore vai puttana ah c'è ma te ciao Marco cobriaco cobriaco hai girato patente? pochino l'albero è come una rotonda bisogna prenderlo largo scelta Marco che il capo voglio parlare sopra gli altri che poi lì si spacchi la faccia si è vinto ma braaa il capo mi ha detto che non mi piace da andare a lavorare non mi piace da lavorare non mi piace da lavorare ma non mi piace da lavorare ma che sono al 58% ma che a cazzo vuole fare anche io quando erano proprio i coglioni e tira intorno eh il vocale è quello più promettente di agri lo porto via eh sì 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 eh sì sì la bianca che deve portare bianca è un giro dei timidi ok non è nice ma non è tutto per andare in pendenza appunto però Marco non ho sì esatto la canna del zucchero mi ha pianta mia in montagna no? no no in pienura che ho capito ma se c'è una scuina cosa fai? se pianta il macchinario? no te l'hanno toia ma se è mia singola come ti che fa anche in giappone o quel coso ma se uno vuoi piantarsi in montagna non vuole bisogna che ci sia la temperatura adatta se no quel cazzo eh pure per attimo se hai cinghi eh farming non è studiato per fare le robe no più che altro è che con i cingholi con i cingholi vai sul fango non va in pendenza se sei in piano se sei in piano se sei in piano se mi dico allora ti eh no è una tua macchina perchè hai cose che va sul piano non ti puoi fare i cavi via si ma i cinghi qua si è fatti qua il fango non si è fatti qua in collina ma cazzo se che ti vedi una cava di zucchero in collina ho capito ma i cingholi non è anche più trazione appunto oh te che hai punto davanti e poi se scorpio gli dai gommi che sono i cinghi perchè 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 pu andare in collina mi hai fatto apposta anche per collinette roba di snivelli ma no pa allora ti te che hai una salita questo macchinario qua e i cinghi slitta ma perché credo che sei ponte e pianta in avanti e non sei che slitta per quello anche ma i cinghi alti ma si ma i figa è un gioco ma chi cazzo sei che pianta i canna da zucchero in collina ancora non sei il gioco che ha fatto il macchinario da merda eh la celosi epatica eh allora c'è la celosi epatica guarda te che te che da ammettere che te che è errato basta dire guardami dire mai mai nella vita mai ho sbagliato io scusate basta ma ragazzi un salame scusate no 128 129 il salame taglia bene sta bla 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 poi qua in là andare in cerca dei radichi ammetti che non hai guardato bene il copertino come il tuo solito non è la mia volta che succede no no io ho fatto il mio dovere sì tipo dirmi la roba dopo cambiare idea mi devi fare la copertina ma vedi te la mia che ho sbagliata perchè te me lo dici tardi oppure editare i video col culo esatto e dopo viene fuori la bestemmia viene fuori tagli a caso aspetta non è colpa mia se le persone imprecano anche te anche te imprecavi in una puntata contro un nico poverino non ho mai imprecato sono le prove la gente lo sa assurate è vero e te te ricordi è vero che ti hai da tagliare la parte su una puntata qua è qua è aspetta che andiamo a finire che l'avanzo è a sinistra che la potete registrare l'ultima passata qua vai scherzo come i i cosi stambichi ma vedi che non ha senso perchè adesso va via dritta che ha più la velocità che c'era il mario negli oro di livello e si è andato alle punte che è una merda eh però non è fatto per la collina all'impiccagione poi sai che ci sono anche le collisioni ma c'è la collisione sulla punta che se becchi una piccola buca si pianta come una collisione ecco guarda pollo deve fare casino con il ferrari pollo vuoi la morte? vuoi l'arrosto? diventa un circolo vizioso o no? no marco fa la pecorella ma figosa guarda che se no ti mando su la mafia del cazzo cioè ti hai fatto una far magro e che altro serve? no pollo se troppo in là non lo prende l'unica roba che ha mangiato delle patate fritte sulla pizza che non c'è la cena ti hai fatto da mangiare una coperta ecco no ho fatto la cena pensati quanto mai che ti si c'è qua ho fatto schifo mi sono svegliato presto sono andato a modena ho fatto una fila da chilo ma da chilo più o meno quanto pesava? eh non ho i grilli alla portata di mano purtroppo da chilo da chilo perché allora ascolta c'è la fiera c'è la fiera che c'è un parcheggio enorme suo proprio guarda a casa vedo che stai dicendo la balla è venuto fuori questa balla non è sopportata l'ho fatta apposta non stai dicendo una balla su mostrini è venuto fuori questa balla non è sopportata l'ho fatta apposta è bella che riesco a farcela e vai momento giusto e con questo abbiamo concluso grazie dell'attenzione e arrivederci bella raga